Miguel Angel Lopez regala spettacolo nella tappa regina del Tour de Langawi 2016. Il giovane talento della Stana si impone in solitaria in cima alla salita di Cameroon High Lancer, finalizzando, nel migliore dei modi, un'azione partita a 5 km dall'arrivo. Seconda posizione con un ritardo di 30 secondi per il colombiano Daniel Alejandro Iaramillo, mentre terzo arriva Van Resburg, il quale regola un drappello di 14 corridori. All'interno di quest'ultimo figurano anche i giovani Giulio Ciccone e Luca Chirico, che concludono rispettivamente in sesta e nona posizione. Resta dunque in casa Stana la maglia di leader che passa dalle spalle di Andrea Guardini a quelle dell'ottimo Lopez.